Ma gli uomini di chi si innamorano? Questo video per rispondere a Sara che mi pone la domanda, Sara che mi segue su YouTube. Allora, il discorso è fatto in questi termini. Abbiamo appurato che le donne tendono a innamorarsi dello stronzo, tra virgolette, cioè quello che riesce a somministrare forte tensione emotiva e in un video precedente ho spiegato le motivazioni. Ora, siamo qui a chiederci invece di uomini da quale tipo di donna sono naturalmente coinvolti. Ecco, dobbiamo tenere presente che ne esistono fondamentalmente due tipologie a seconda dell'imprinting. Quindi una donna deve imparare a capire, a distinguere con chi ha a che fare. Cioè ci sono uomini che tendono a innamorarsi della donna trasgressiva per renderla santa, detti in altre parole cercano la puttana per renderla santa, altri che cercano la santa per renderla puttana. Ora, questo da cosa dipende? Dipende dall'imprinting che hanno vissuto fondamentalmente. Tutti quelli che hanno avuto un padre trasgressivo che ha, come dire, trasgredito il loro modello e quindi gli ha fatto vivere una sorta di tradimento e ha fatto vivere anche una sorta di tradimento alla madre, se dimostrato trasgressivo verso la madre, tendono a, per emulazione, ad avere diciamo un comportamento inverso. Cioè tendono ad agganciarsi alla donna trasgressiva per fare esattamente il processo inverso in viso dal padre, da questo punto di vista, che gli ha fatti soffrire tanto. Quindi si agganciano alla donna trasgressiva per renderla santa. E invece tutti quelli che hanno avuto la madre che ha trasgredito a quelle che erano le loro esigenze, cercano, diciamo, la donna istituzionale, diciamo così, la santa, per renderla trasgressiva. Ora, uno dirà, e come faccio a capire? Quindi per una donna è fondamentale tenere presente questo, che deve presentarsi o in un modo o nell'altro per agganciare. E poi deve tenere presente questo, che una volta che il maschio tenterà di fare la trasformazione, non deve mai dargli l'idea che questa trasformazione è finita, è esaurita, cioè è diventata puttana quanto di più non poteva diventare, oppure santa tanto di più non poteva diventare. Perché nel momento in cui la trasformazione è finita si ha lo sgancio. Perché il fatto della trasformazione è ciò che interessa la parte emotiva, da cui ricava emotività. Per cui si andrà a cercarsene un'altra, ad agganciarsi un'altra. Per cui bisogna sempre lasciare un piccolo dubbio che questa trasformazione non sia mai stata, non sia mai, non sia andata completamente a buon fine, che sia sempre non del tutto compiuta. Questo è fondamentale. E poi è fondamentale capire come presentarsi inizialmente, se è più trasgressiva o se è più istituzionale. Beh, questo dipende dal tipo di uomini. Come si riconoscono gli uomini? Beh, si riconoscono soprattutto, in base all'imprinting, dal tipo di competitività che hanno. Cioè, tutti quelli che dimostrano di essere competitivi verso altri uomini, rispetto alle donne, tendono a essere della prima tipologia, quelli che si agganciano una donna trasgressiva, per trasformarla in santa. Tutti quelli che invece dimostrano più competitività verso le donne. Cioè, sono diffidenti verso le donne. E competitivi vuol dire anche diffidenti, fondamentalmente. Come i primi sono diffidenti verso gli uomini, questi tendono a viversi la diffidenza verso le donne. Cioè, i primi tendono a pensare che altri uomini possano fregargli le donne che gli interessano. E, invece, i secondi credono che le donne con le quali loro sono interessati, essendo pochi affidabili, tendono a, tendono a, possono andare ad agganciarsi ad altri, ad altri maschi, insomma. Quindi tendono a essere affidabili. È inaffidabile. Per questo che loro cercano la santa, ma poi vogliono trasformarla, comunque. Ecco, una, quindi se riesce, ed è abbastanza facile capire, bisogna avere un po' di, come dire, di familiarità, di consapevolezza con questi meccanismi, ma una volta che uno si è impratichito riesce a scoprirlo abbastanza facilmente. Sai come devi porti e poi sai come devi gestire il tipo di relazione. Quindi devi avere questa capacità, fondamentalmente, di apparire o istituzionale o trasgressiva. Come farlo? L'ho spiegato in un altro video che si può trovare. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sul blog istituzionale.com. Mi raccomando, iscriviti al canale e condividi questo video con i tuoi amici. Ciao!